Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali Come fa il cane? E il gatto? La sinetta? La mucca? La rana? La pepola? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo, non metta nel cappotto Che con i denti funga, che molto spesso pianga Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si arrabbia, manostrilla, sosseggia, camomilla E mezzo attormentato se ne va